Battaglia dura si preannunciava alla vigilia e battaglia dura è stata, per la prima volta in questa serie le due squadre hanno dimostrato forse una diversità, una differenza anche di potenziale. Forse è quello che ha inciso di più anche l'atteggiamento di Chieti che dopo aver tenuto botte, dopo essere anche riandato avanti, tra la fine della terza frazione e poi tutto l'ultimo quarto ha ceduto mentalmente. Sì, diciamo lì ci eravamo riavvicinati, però secondo me il break l'abbiamo preso nel secondo quarto credo, perché concedere a loro 56 punti a riposo credo sia troppo. Abbiamo fatto già la prima partita, è andata bene, ma credo che dovremmo migliorare molto in difesa. Difesa, forse anche qualche cosa in attacco, ovvero per alcuni momenti, per alcuni istanti della partita si è visto un po' di mancanza di idee, forse possiamo chiamarle così. C'è una certa mancanza anche di lucidità nel trovare le soluzioni corrette. Sì, a tratti siamo andati un po' nel pallone, però secondo me è dato tutto dalla mancanza di fiducia che abbiamo trovato dietro questa partita. Loro hanno fatto spesso canestro all'inizio e ci hanno un po' penalizzato, però dietro dobbiamo difendere meglio, dobbiamo essere molto più concentrati se vogliamo vincere domenica. Domenica o si vince o si torna a casa, partita fondamentale, ci sarà tempo e modo per recuperare le energie fisiche e mentali, l'approccio non potrà essere sbagliato. Certamente, domenica ci giochiamo tutto, con un atteggiamento diverso ovviamente, si parte da capo, si gioca una partita e diciamo che si può fare, si può fare cambiando atteggiamento, cambiando il modo di difendere.